Hai a disposizione tutta la piattaforma di Udemy e il suo enorme parco clienti per cercare di vendere il tuo corso con l'unica grossa accortezza è che devi pensare in maniera molto bene all'idea differenziante, al titolo del corso, alla descrizione del tuo corso per renderla accattivante e fare in modo che la gente compri il tuo corso anziché quello di qualcun altro. Stai ascoltando Crea il tuo corso, il primo programma in Italia che ti spiega in modo semplice e senza fronzoli gli strumenti, le strategie e le azioni necessarie per realizzare e vendere il tuo primo corso online e ora la parola al padrone di casa, Davide Rampoldi Bene dunque, per la serie miti sfatati e verità scomode oggi siamo alla puntatona numero 4 e parliamo di Udemy e dobbiamo fare subito una premessa importantissima Udemy a differenza di ClickFunnels, Kajabi, Funnel semplice non è una piattaforma super integrata dedicata a fare un po' di tutto è una piattaforma specifica che ti permette di vendere e erogare il tuo corso online ti dirò di più, solo corsi online quindi se vuoi pensare a Udemy come una piattaforma per vendere i tuoi prodotti, i tuoi servizi stanno subito alla lontana, questo non è il posto e lo strumento che ti serve perché stiamo parlando soltanto di corsi online non solo, al momento in cui sto registrando questa puntata devi avere anche un corso che duri almeno mezz'ora e diviso in 5 lezioni o in 5 moduli, diciamo così quindi se vuoi pubblicare un pdf per esempio non ti va assolutamente bene cosa che invece potresti fare per esempio con Teachable o con Thinkific ma con Udemy questo non puoi non puoi perché al suo interno proprio per come è strutturata la piattaforma e per il suo modello di business Udemy è un grande contenitore un contenitore dove ci sono insieme il tuo corso o i tuoi corsi tanti altri corsi sia in settori diversi dal tuo ma soprattutto anche settori uguali al tuo e questo è un punto di forza ma può essere anche un punto di debolezza della piattaforma perché se non riesci a distinguerti a livello di titolo a livello di contenuti, a livello di descrizione, a livello di copy il tuo corso molto probabilmente risulterà tra quelli invenduti e quindi devi lavorare molto bene da questo punto di vista se vuoi vendere bene su Udemy fatta questa premessa e quindi considerato che stiamo parlando di qualcosa di sensibilmente diverso rispetto a ClickFunnels & Company vediamo nell'analisi delle tre parti, delle tre componenti se Udemy e come Udemy può aiutarti parliamo della parte iniziale quindi del pre-vendita, del marketing in generale tutte quelle pagine delle quali abbiamo parlato precedentemente che ti portano e portano un potenziale cliente ad acquistare il tuo corso ora all'interno di Udemy questa cosa andiamo un po' malaccio perché? Perché hai a disposizione soltanto una pagina cioè la pagina di atterraggio la pagina in cui le persone visitano e guardano la descrizione del tuo corso qui hai la possibilità di inserire insomma dei video una descrizione e anche soprattutto la cosa più importante le testimonianze però capisco che se non hai testimonianze all'inizio sia ovviamente molto difficile inserire delle testimonianze realistiche ok? quindi Udemy non ti aiuta sicuramente a vendere meglio il tuo corso ci ho detto essendo una piattaforma e quindi è una specie di motore di ricerca per certi versi conosce e ha all'interno molti clienti che hanno già acquistato prodotti simili al tuo o affini al tuo e quindi avendo a disposizione questo enorme database di utenti potresti essere facilitato perché nelle newsletter che manda Udemy con una certa periodicità e nelle pubblicità che fa Udemy potrebbe consigliare soprattutto magari se è in promozione il tuo corso a possibili acquirenti che hanno già acquistato qualcosa in precedenza sono interessati per esempio a corsi nel tuo settore quindi questo è il vantaggio ma è anche in qualche modo uno svantaggio quindi lo sconsiglio ovviamente per chi vuole creare dei corsi super avanzati perché avrebbe bisogno di qualcosa di sicuramente molto più strutturato se invece però ospiti queste pagine di vendita all'interno di un tuo blog o di un tuo sito e vuoi utilizzare semplicemente la pagina di atterraggio di Udemy quella di presentazione a questo punto puoi farlo stiamo parlando quindi della caratteristica della funzionalità numero due che è quella del carrello di fatto all'interno di questa pagina tu trovi il pulsante per acquistare il tuo prodotto e quindi o uno è partito da Udemy rimane all'interno di Udemy e trova il tuo corso decidi di acquistarlo oppure magari l'ha visto sul tuo blog ne hai parlato in un podcast l'hai citato in una intervista e dici guarda vai su questo link ti consiglio di utilizzare un link accorciato in modo tale da non dover spiegare a tutti vai su Udemy slash eccetera eccetera che diventa un disastro qui che ne so avrai il tuo nome nome.cognome.it slash nome del corso anche una cosa più accorciata sarebbe ancora meglio e quindi la gente arriva e acquista il tuo corso al punto numero 3 abbiamo il discorso collegato alla membership e alla erogazione dei contenuti ora Udemy è molto verticale in questo senso quindi è specializzato proprio in questo e proprio quando anch'io mi sono registrato sotto Udemy c'è tutta una parte guidata che ti aiuta nella creazione del tuo profilo come insegnante proprio nella creazione del tuo corso delle parti del tuo corso ti permette di creare dei test dei moduli specifici per il test addirittura dei test a casa da fare quindi non soltanto qualcosa da fare online ma di completamento a casa e come funzionalità molto interessante che ho trovato c'è una app che è fatta molto molto bene sia per Android che per smartphone che ti permette di sincronizzare il tuo corso a seconda dei vari device sui quali lo stai guardando per cui lo potresti guardare sul PC dall'ufficio ma poi a casa lo guardi da un tablet lo guardi in metropolitana da uno smartphone e puoi riprendere assolutamente da doveri e lui mantiene tutti i segnalibri i commenti e in generale quindi ti permette di velocizzare moltissimo l'apprendimento senza perdere tempo nel dover ripartire dall'inizio con tutte queste lezioni molto ben fatta devo dire l'applicazione da questo punto di vista semplice ma estremamente efficace nella pagina di creazione dei contenuti abbiamo una estrema facilità molto intuitiva puoi creare delle lezioni delle sottolezioni riorganizzarle con un drag and drop molto molto semplice e quindi da questo punto di vista te lo consiglio assolutamente soprattutto se sei all'inizio se non hai mai creato un corso oppure se la cosa che ti interessa è cominciare a vendere il tuo corso anche senza marginare moltissimo creandoti uno zoccolo duro di utenti molto soddisfatti del tuo corso online non include Udemy a differenza per esempio di funnel semplice o di sistemi proprietari basati su dei plugin da agganciare a wordpress la possibilità di taggare le persone che sono arrivate in una certa lezione così come non puoi mandare tu delle mail specifiche alle persone che sono arrivate in un certo punto perché? perché fondamentalmente Udemy al proprio interno non ha un sistema di mailing list sul quale tu hai controllo c'è una newsletter gestita da Udemy ma per il resto puoi fare ben poco non soltanto e questo lo andiamo a annoverare tra le parti negative di Udemy non hai il controllo sugli utenti cioè gli utenti non sono tuoi sono tuoi clienti sì ma ovviamente tutta la fatturazione viene fatta da Udemy e soprattutto tu non hai la mail di questi utenti hai dei contatti che ti arrivano magari se ti lasciano un feedback però non hai un insieme di email o nome cognome di mail come risulta tradizionalmente con tutte le altre piattaforme e attraverso le quali puoi poi creare delle newsletter specifiche per fare del follow up per vendere ulteriori corsi questo devi sperare che sia Udemy a farlo per te motivo per cui se hai un business ormai già strutturato che viaggia molto molto bene puoi utilizzare Udemy come backup come soluzione in più ma ti consiglio di ospitare il tuo corso e quantomeno tutta la parte di regeneration da un'altra parte perché ovviamente come detto i clienti non sono clienti tuoi ma sono clienti di Udemy un ultimo punto che all'inizio potresti considerare come poco pertinente però alla lunga diventa pesante è il fatto che Udemy al momento sempre in cui ne parlo ti dà la possibilità di creare corsi al massimo con un prezzo di 200 dollari o 200 euro insomma e questo potrebbe diventare un limite pesante nel caso tu volessi creare come spesso consiglio io di fare dei corsi high ticket quindi dei corsi che costano parecchie centinaia di euro sicuramente oltre i 200 questo con Udemy non puoi farlo ovviamente devi considerare anche le provvigioni che Udemy intasca sulla vendita di ciascun corso ecco nel caso di Udemy ci sono tre politiche di prezzi al momento in cui sto parlando parliamo di promozioni che vengono fatte in maniera diretta dall'insegnante in cui lui trattiene il 97% del totale quindi all'insegnante va praticamente tutto e lui si tiene soltanto un 3% Udemy serve però un coupon che viene fatto e gestito direttamente dall'insegnante all'interno del proprio pannello di controllo parliamo invece poi del grosso cioè delle vendite organiche che vengono fatte da Udemy quindi tramite la newsletter attraverso il sito in questo caso il guadagno viene diviso in 50-50 quindi metà Udemy metà a te tieni presente però che se utilizzi una app di Udemy in questo caso il 30% del totale viene trattenuto da Google da Apple eccetera eccetera come costo di transazione e quindi tu devi applicare questo 50% sul 70% residuo il che ti rimane praticamente molto molto poco infine se ci sono delle inserzioni a pagamento gestite direttamente da Udemy in questo caso ti rimane soltanto il 25% e il 75% viene trattenuto quindi questo ti deve assolutamente insegnare una cosa cioè che se vuoi sfruttare Udemy all'inizio lo puoi fare giocandoti il 50% dei margini perché sfrutterai i canali di traffico che vengono creati e gestiti direttamente da Udemy quando però cominci ad avere il tuo giro diciamo ti sei creato una newsletter ti sei creato una mailing list o fai delle promozioni esterne gestite da te direttamente è assolutamente obbligatorio che ti vai a creare un coupon in modo tale che tutto il traffico che tu porti che tu hai generato in realtà si converta in clienti ti porti il 97% degli utili perché se tu mandi traffico e la gente acquista senza coupon ci stai perdendo praticamente la metà dei potenziali incassi quindi per chi è Udemy in generale è per secondo me per chi comincia per chi non ha mai avuto esperienza nella creazione di corsi in cui ha ancora magari qualche difficoltà sia nella creazione del corso vero e proprio che nella gestione della piattaforma e all'interno di Udemy trova certamente un prodotto molto semplice estremamente facilitato che ti aiuta molto nell'inserimento di tutti i tuoi dati non hai nemmeno grossi problemi dal punto di vista della vendita perché devi hai a disposizione tutta la piattaforma di Udemy e il suo enorme parco clienti per cercare di vendere il tuo corso con l'unica grossa accortezza è che devi pensare in maniera molto bene all'idea differenziante al titolo del corso la descrizione del tuo corso per renderla accattivante e fare in modo che la gente compri il tuo corso anziché quello di qualcun altro puoi ancora utilizzare Udemy a mio avviso a un livello 2 soprattutto per la parte di carrello e per la parte di gestione erogazione del corso mentre la parte di funnel a livello 2 ormai deve essere dimandata a qualcosa di differente perché abbiamo già detto o ci stai perdendo il 50% delle commissioni o comunque Udemy con una semplice pagina non ti può permettere di fare delle grosse conversioni soprattutto se vai su delle cifre importanti ok e questo si aggancia all'altro grosso limite di Udemy che abbiamo già detto in precedenza cioè del limite attuale dei 200 euro per cui se vuoi creare un corso da 500 non puoi e Udemy non è la piattaforma che puoi fisicamente proprio utilizzare cioè non puoi fare un lavoro di questo tipo con Udemy devi utilizzare Tchibo Thinkific oppure passare su ClickFunnels New Kajabi o Funnel Semplice quindi ricapitolando a differenza dei tre sistemi che abbiamo visto nelle puntate precedenti cioè Funnel Semplice Kajabi e ClickFunnels Udemy è indicato per chi parte o al massimo per chi si trova a un livello 2 semplificato e parziale in qualche modo però si tratta anche di un sistema molto molto semplice estremamente efficace per partire per cominciare a concentrarsi sulla creazione del corso sulla creazione dei contenuti senza farsi prendere dalla mania di dover gestire tutto di essere in grado di capire tutto di Wordpress o di altri sistemi con Udemy puoi sentirti assolutamente svincolato da tutti questi grattacapi di tipo tecnico e creare in pochissimi minuti realmente in minuti la tua piattaforma con la tua pagina sulla quale puoi ispitare infiniti corsi di infiniti prezzi lanciare infinite promozioni però ovviamente sei in concorrenza con tutti gli altri hai il limite di prezzo dei 200 euro che all'inizio potrebbe anche non essere un grosso problema e soprattutto i clienti non sono tuoi quindi una volta che hanno acquistato da te non hai modo di fargli un mailing personalizzato particolare sfruttando anche un tuo autoresponder perché non hai le mail di queste persone quindi è un grosso limite dal punto di vista di marketing ottimo per chi inizia ma sicuramente a lungo termine è qualcosa che dovrai abbandonare se vuoi vedere come funziona Udemy nei dettagli e iscriverti l'iscrizione è assolutamente gratuita puoi andare su crealtocorso.it slash Udemy Udemy con la Y finale nella quinta e ultima puntata di miti sfatati e verità scomode in attesa che magari queste puntate aumentino in futuro per la presenza e l'arrivo di nuovi player sul mercato andremo a vedere una piattaforma interamente italiana molto verticale dal punto di vista dell'erogazione e la vendita di corsi online che è corsi.it nonché le rede di piùchepuoi.it vedremo di cosa si tratta come poter creare dei corsi all'interno di questa piattaforma vantaggi e svantaggi rispetto soprattutto a Udemy perché non entra in contrapposizione con ClickFunnel e il Kajabi fanno il semplice perché è proprio una tipologia di prodotto totalmente differente e più simile per l'appunto a quelli di Udemy arrivata questa quarta puntata della serie dei miti sfatati e verità scomode mi piacerebbe proprio sentire la tua su iTunes o su Spreaker lasciami il tuo commento lasciami una nota vocale se ti va all'interno del gruppo Telegram crea il tuo corso oppure anche direttamente in maniera personale e privata a Davide Rampoldi proprio sotto Telegram mi piacerebbe sapere che cosa hai apprezzato di più qual è stata l'informazione che magari non conoscevi e che ti ha permesso di aprire gli occhi su uno degli aspetti critici di questi software e queste piattaforme delle quali abbiamo parlato se hai dei suggerimenti o conosci qualche altra piattaforma che a tuo avviso meriterebbe un discorso a sé e una puntata a parte di questo podcast puoi lasciarmelo sia nei commenti che nelle tue note vocali e audio e infine per aiutarmi a far conoscere sempre di più il podcast è importante anche lasciare una tua recensione in termini di stellette e spero di essermi guadagnato almeno 4-5 stellette con questa puntata del podcast o nelle puntate precedenti del podcast anche per oggi quindi è tutto siamo arrivati al termine di questa puntata del podcast di Crea il tuo Corso io ti ringrazio ti saluto e ci vediamo anzi ci ascoltiamo nella prossima puntata ciao hai appena ascoltato Crea il tuo Corso per ricevere ogni giorno nuove strategie strumenti e suggerimenti per creare e vendere il tuo corso online iscriviti al canale telegram chiocciola Crea il tuo Corso e partecipa soprattutto ai live su facebook alla pagina facebook Crea il tuo Corso crea il tuo Corso Grazie a tutti.